Una vacanza tutt'altro che relax per una giovane coppia che stava passando le ferie nella riviera del Conero. Dopo una lite scoppiata in hotel, il ragazzo avrebbe tentato di strangolare la sua fidanzata, una 26 anni lombarda. Si tratterebbe dell'ennesimo assurdo atto che la vittima avrebbe subito durante la relazione con un anconetano folle di gelosia. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha ammonito l'aggressore per stalking vista la gravità dei suoi comportamenti. Una misura di prevenzione per intimare al giovane di cambiare subito condotta oppure ci saranno conseguenze peggiori fino all'arresto. La polizia che ha ricevuto una denuncia dell'aggressione ha svolto indagini e in base a questa è stato emesso l'ammonimento. Due procure, quella di Milano, provincia in cui risiede la vittima e quella di Ancona, si sono coordinate per un'attività sinergica insieme anche alla questura di fermo che ha raccolto importanti elementi per avviare l'istruttoria. La ragazza avrebbe infatti subito già atti persecutori e comportamenti violenti da parte del compagno. Il più grave avvenuto proprio nei giorni scorsi in una località della Riviera del Conero. Durante il soggiorno, a seguito di un litigio, lui l'avrebbe insultata e poi l'avrebbe stretto le mani al collo, ma lei sarebbe riuscita a liberarsi. Dagli accertamenti è emerso che il compagno avrebbe già tenuto atteggiamenti minacciosi anche nei confronti di amici e parenti della ragazza. Intervenire prima che le situazioni degenerino, questo è il motto del questore Capocasa, il quale ricorda come nessuna storia venga sottovalutata se la vittima ha il coraggio di chiedere aiuto.